Sicuramente una giornata molto importante, i cinque ordini che hanno voluto mettersi intorno al tavolo per discutere di sicurezza hanno fatto una grandissima operazione culturale per la città di Torino. Crediamo davvero che sicurezza sul lavoro e salute dei lavoratori possano rappresentare argomenti importanti in cui un ragionamento congiunto tra la città e gli ordini può davvero fornire elementi utili e spunti di riflessione anche per il futuro strategico della città.